Non hai più la patente o hai difficoltà motorie? Ritrova la libertà con gli scooter elettrici MCR. Prova gratuitamente uno dei nostri scooter per anziani e disabili. Un nostro esperto sarà a disposizione per consigliarvi e insegnarvi anche a casa vostra. Passa a trovarci in via Tombetta 142 a Verona o chiamaci al 320 96 70 988.